E benvenuti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su Resident Evil 3 Remake Maizio e Nan, andiamo a vedere l'ultima puntata, raga abbiamo uno sconfitto Oh, questo che è? L'ultima puntata abbiamo sconfitto Il mostro Ok, dai Ora andiamo avanti, vediamo cosa c'è qua Vabbè, vuoi che ci sia mai altri zombie, no? Però non so se l'abbiamo sconfitto definitivamente Il mostro, eh Ma mi puzza che l'abbiamo sconfitto Sì, eccolo Eh, sì, eh Cos'è lì? Eh, sì, eh Eh, sì, eh Oddio No, 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 no Sì, lanciarazzi Ma che gli ha dato il lanciarazzi questo? Eh, vabbè Sì, lanciarazzi Lancia Easy Rekt Qua, attenzione Qua ci stanno anche i zombie che adesso mi rallenteranno Corri, 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 non te fa prende Eh, ve l'ho detto che Sembra strano che È morto No, sì Come fa? Come fa? Come fa, Dio? Come fa? Via, via, via Raga, no Non ci libereremo mai di questo Non muore Gil, tutto ok? Carlos, quel mostro mi è di nuovo addosso Non è possibile Pensavo l'avessi ucciso Eh, sì Anche io Anche io Anche io Anche io c'è lanciagranate C'è Eh, dai Sì, eh Vabbè Adesso sta diventando impossibile Eh Sì, vabbè Con lanciagranate Lanciagranatini Lanciagranatoni Eh, mo Rekt Get rekt Eh, vabbè Eh, vabbè Con lanciagranate Non fa un no Ce la fa più il Gil Aspettate un attimo Lanciagranatini Lanciagranatoni Curiamoci L'ultimo spray Eh, poi rekt Se arriva ancora il mostro È da rekt Veramente Vabbè Non ci sta seguendo Via, 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 via Eh, raga Ci mancava solo Che adesso è armato Con lanciarazzi E E Ditemi voi Ora come lo ammazziamo Quello Ho solo due munizioni Esplosive Prima ne abbiamo usate Tipo 7 8 Per ammazzarlo Eh, ma spunta fuori Allora Torna alla stazione Guarda sta più a tutto fuoco No, 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 no Non più a fuoco Gil Che già non abbiamo Medicina Robbe Spray Eh Io non mi ricordo più Regato alla via Per la stazione Via, 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 via Via, via, via Ho capito io Via, via, via Ma azzuli Sono passati Schiacciati Da un Dalla testa Ma sono arrotolante Guarda che brutto Uccisi Dalla testa Baffosa Sembra un messicano La faccia di un messicano Quando Gli danno da bere Il tequila Guarda Va bene Dobbiamo scappare Dalla testa Baffuta Dov'è che siamo ripresi? Ah, ok Ah Messicano Incavolato nero Ancora Felice Oggi bevo il tequila Con E mi faccio pure La siesta La, 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 la Via, via, via Mo Rotolando Qua, 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 qua Come rotola Oh Ok Possiamo andare No Eccolo Eh dai Però Oddio Non ti sopporto più No Come si fa la capriola Fante va Così Non lo so Rega Io Ma sta parte La vedo molto Sta parte La vedo molto Da rimbalzini Qua in larga Qua Recteremo Parecchie volte Perché Speriamo che non ci fa ripartire Dalla testa Che rotola Perché ogni volta Rifarmi Quella Quella scena lì Sinceramente Non ne ho voglia Eh sì invece Sparati la scena della testa Che non te la spari mai Ma sì invece di andare qua Ah Chiuso qua Non si può andare di là Ah mi devo sparare la scena della testa Ma 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 Vai testini Testori Però dai belli miei Questa parte Da Vai Là c'è il missile Scappando E' un'arriva Stars Stars Arrabbiato proprio Col mondo Quello Va va io vado Non è che sto lì aspettando tre ore Via 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 Prima che arriva Il mangiabecchini Via 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 Allora di là non se va Quindi andiamo di qua No manco di qua se va E dove se va Di qua di qua di qua Per favore tengo famiglia Apri 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 Ah ecco lì Eccolo 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 Vai vai da questa parte Andiamo 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 Per favore Carlos Help me Ah Sì È arrivato No 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 Non scappando Sì vabbè Però è illegale Il mostro Con quel lanciarazzi Guarda lì che roba Oh È illegale Rega è illegale Eh col mitra Che gli fai con la mitragliatrice Ah La trappolina Trappolona Forza Andiamo via Trappolini Trappoloni Vai alla banchina Della mezzero Non credo che l'abbia L'ha ammazzato Carlos Non credo proprio Carlos So che abbiamo iniziato Con il piede sbagliato Grazie Beh Adesso siamo pari Sei molto più coraggiosa Quello che conta È che ora Possiamo portare via Tutti dalla città Sì Sarai al sicuro Sicuro Porti via E che lasciamo Ci sono novità Non partirò Eh Perché no Ordini dall'altro Ma se serve a salvare la città Resto volentieri Ah Carlos Lo fanno restare qua Ma non è che sei innamorata Jill Amore Resta pure lei Ma Io fossi in te Jill Gambe le vasi Ottimo lavoro Sei davvero brava Come dicono Vai dentro ora Il treno sta per partire Carlos Tyrell Conoscete i vostri ordini Dovete tornare in città E trovare Nathaniel Bard Questo viaggio non è di sola andata Vero? Sta tranquilla Quando i civili saranno in salvo Il treno tornerà Non preoccuparti Tu vai Non ho nessuna intenzione Di morire Lo so che non puoi stare senza di me Sì Dovete trovare questo scienziato Le sue ricerche sul vaccino Potrebbero salvarci Lo vedi? Stai imparando La sola cosa che conta È la tua vita Buona fortuna Si parte Povero Carlos Abbandonato Non crederai davvero Che quella testa d'uovo di Bard Sia ancora vivo Vero? Ho buoni motivi Per pensarlo Che c'è? Sei preoccupato Per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il Plotone A cadere nell'imboscata Di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello Fosse chiuso Non è vero? Ecco Cos'è stato? No Eh sì è Pure qua Perché questo stronzo Non è ancora morto? È tardi Presto Di qua Eh vabbè Oh cos'è quello là? Dinamite? Nicolai Che stai facendo? Non è me che vuole Ma che pezza Eh vabbè E mo? Scendi dal mio treno Bastardo Guardi giù Oh Oh shit Rek Grande dio Grande Miles Una Oddio Ragazzi Ragazzi Sto gioco è pieno di colpi di scena Devo ammetterlo Non me l'aspettavo Sto cosa Vabbè Mi aspettavo che sarebbe tornato quello Perché comunque non è ancora morto Quello non muore mai Ragazzi è bionico Però dobbiamo trovare un modo per ammazzarlo Perché ragazzi ci sta sempre addosso Sempre Vuole Jill La vuole Ma vediamo come fare Cancello ovest dell'RPD Ok È passato un po' A quest'ora il treno sarà fuori città Come la tua nuova fiamma No Lei non è il tipo È assolutamente unica Cancello Vediamo cosa c'è qua Ribruzzo Dentro il cancello Ok Occhi aperti Adesso Ah Adesso siamo Siamo arrivati alla centrale Lo dici Ok Fa vedere le armi Qua 32 colpi 18 Coltello Mamma mia Guardi i cadaveri Cadaverini Cadaveroni Allora Dobbiamo trovare il dottor Brad Il dottor Brad Poliziotto Scusami Scusami Eh No Ecco Eh L'ha morso Morsiconi Morsighetti Merda È chiusa Tu pensa alla porta Che brutto Io ho questo stronzo Ovviamente ci devo pensare io No Vai Rek Dov'hai Dio Oh Non muore Eh Madonna Spero cosa c'è Ah Un tesserino Appartenente alla Starz Ok È un tesserino L'ha aperta Come fa T'aprilla Dov'è Oh Allora Direi che possiamo salvare Allegramente Carlos Carlos Da un'occhiata qui Ho localizzato l'ufficio degli Starz Ricorda Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella Sa che non lo lasceremo andare facilmente Quindi ricerca e soccorso È diventato snidare e catturare Bene Buono a sapersi Apro la serranda per farti passare Resta qui e controlla che succede alla centrale Di contatto se scopre qualcosa Ehi Fai attenzione Allora si può salvare Se Aspè salviamo un nuovo dato qua va Salviamo con Carlos Ok Allora sento già rumori molesti Cos'è che mi ha aperto lui Ah qua Sento già rumori molesti Però L'importante è che non c'è quel maledetto lì Col Scusa Ok la tesserina La tesserina Proiettili Fogli Utilizzo dei badge A ogni momento la centrale è stato assegnato un badge Quest'ultimo deve essere utilizzato Dove avere accesso alle cassette di sicurezza Perfetto 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 L'avevo intuito anche senza leggere il foglio Oh qua c'è Ah no Un pacchetto di sigarette Ah 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 No non mi dica ancora quello là Ma cosa Che cazzo era quella roba Oddio nuovo mostro Nuovo mostriciattolo Non sembrava Oddio l'ha appeso Qua 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 Oh mio dio Appeso Quanto si può entrare Eh no non erano zombie Eh Non era Era Nemesis forse raga Se l'è squagliata Meglio per noi Meglio per noi Chi è là? Ok A rect No Eh raga Eh Brutto mostro Oddio Oddio Ah Ah Il budrillone Maezina Mangia mangia A rect Wow Che benvenuto del cazzo Eh si Abbastanza Bello mio Abbastanza Siamo andati Siamo andati in mezzo agli zombie qua Vediamo se c'è qualcosa di utile qua Oh no Questa è la porta Vediamo se c'è qualcosa di bello Per noi non c'è niente qua Qua siamo tornati Mi sembra che La cosa di Resident Evil 2 Mi sembra questa Questo edificio Che lassù c'era Una via Dove di quassù era Qua Ah se Mi ricordo bene E se l'ha sentito il 2 Bellini Andiamo avanti Ok Proiettili Lock Mi ricevi Si aggira una strana presenza qui Non so cosa sia Una strana presenza Ok Controllo con le telecamere Sta attento Allora Locker room Cap Non vorrei che questo cap Sia un Un codice Per aprire una stanza Qua non c'è nient'altro Oh oh Surprise Romana Dio quanti sono Si è quanti sono Oh vai via Vai via Allontanati Bestia Bestia Mamma mia Bestia Qua c'è da perdersi eh Oh una scatola Cosa abbiamo trovato di bello Spray medico Scatola Spraghi proiettili per niente Vabbè comunque spray medico Sempre buono eh Abbiamo un colpo Ricarichiamo Va per favore Ok Poi E' chiusa Un altro Spera Spera Dobbiamo controllare un attimo di qua Qua non c'è niente No la vie è là Questo si è rialzato Ma va Oh no 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 Eh dai Madonna Nelle parti basse ti becco Ma questo pure Odio sparare ai poliziotti Eh ma non so più poliziotti Bello mio Ormai sono altro Vediamo qua C'è di brutto Ok la macchina Qua non abbiamo Non abbiamo trovato niente Cosa depositiamo Ok la luce Attenzione Qua cos'è Macchina fotografica Non penso di voler Fotografare quelle cose Non fai una foto Che non la fai mai Iniziamo a fotografare i zombie Vabbè diamo una salvata Ok Eh vediamo Ah qua dentro c'è della roba forse Proiettili Pianta rosa E basta Rect Qua cos'è un foglietto Circolare interna 1998 Circolare In trasferimento Fornitore ufficio La cassaforte di Gnifu Adotata in combinazione A tre cifre E' stata spostata Dall'ufficio Starza All'ufficio Alla ovest Brutta notizia La combinazione È Sinistra Come serve la carta e penna Belli miei Carza e penna Sinistra Nove Destra Quindici Sinistra Sette Ok Abbiamo segnato Gracias Gracias Muchas Andiamo avanti Ok Dobbiamo andare su La via è su Questa quant'altra brutta roba Incontreremo Nel mezzo del cammin Di nostra Carlos L'ufficio si trova poco più avanti Ricevuto Due Se può accendere la luce No A parte che non è un interruttore Allora su Si può andare Ispezioniamo prima sotto Belli miei Guarda il bagno Guarda il bagno Guarda che zombie Guarda dentro No Allora Qua abbiamo nota Di un amico Caro Hector Sta leggendo questa nota Vuol dire che ho fatto brutta fine Vabbè Distruggi il muro Nella stanza docce Come distruggi il muro Nella stanza docce Con cosa Noo Cap mi sembra che era qua Cap Cap Mamma mia Memoria dell'ozione Granata stordente E mo Lasciamo perdere Come lasciamo perdere Allora Cosa è il muro Che bisogna distruggere Aspettate un attimo Adesso c'è qualche zombie Che mi salta fuori Adesso vai Ah eccolo Dispositivo Ok Vorrà dire che faremo Un bel botto C4 Usa Ok Oh Usa Giusto Ma non so se va messo questo Un dispositivo Di medie dimensioni Beh Vabbè Non so regà Forse lo devo prendere Eh no Mi indica E belli miei mazze Non mi spiegate Cosa devo fare Vabbè Lasciamolo lì In caso Non so come farlo Saltare in aria Quella cosa Perché è bloccato Bella domanda Andiamo a vedere su Eh c'è da perdersi Anche qua Belli miei C'è qualche zombie Cos'è qua Chiave Minta che chiave Regà Eh E mo Siamo pieni Nell'inventario Vabbè Questo si rialza No Non si rialza Proiettili Cap Vai Non è più cap È cambiato? Mazzuna Com'è cambiato? Non è più cap È stato cap Fino adesso Ora non è più cap Ah E qua Voglio spara a caso Era cap Era Aspetta Era cap Spesso Qualcuno Sento dei rumori Si sta rialzando Questo Regà qua Non si può più passare Questo mo si rialza Sta a vedere No Non si rialzare No Lo sapevo Oddio Lo sapevo Lo sapevo No Non ti fa mordere Da sto scemo Leva Madonna Tu impari a rialzarti Qua bisogna fare Qualcosa Questo Sto coso Bellini Sto dispositivo Elettronico Qua Non so cosa fare Ma non è che abbiamo Una leva di comando Qualcosa Dove far saltare in aria Sto porta Non c'è altro A parte Il dispositivo La Cap Sotto Non si va Macchina del caffè Ci facciamo un caffettino Bello mio Vabbè Regà Direi che per questa puntata Possiamo fermarci qua Il gioco Sta diventando Molto molto bello Complimenti Veramente Ai creatori Molto carino Per ora Però Adesso stiamo usando Carlos Vediamo un po' Come va a finire Con la nostra Con l'altro nostro personaggio La nostra Jill Regà Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tanti bei like Lasciate tanti bei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo remake Per ora Non è molto fedele Alla realtà Alla realtà Sua Al gioco Della Playstation 1 Però Andiamo a vedere Magari più avanti Ci stupirà Lasciate tanti bei like E noi come sempre Ci becchiamo Al prossimo video Bella regà Grazie a tutti